Signori belli, ciao a tutti, salve a tutti, come va? Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Oggi sono qui per raccontarvi la mia prima esperienza con Xbox, con un gioco in particolare. Ho finito Quantum Break, ma prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su tutti i canali social, mi raccomando, il link in descrizione per avere lo sconto fino all'80% su Instant Gaming, mi raccomando, usufruitene perché in questo periodo è molto importante, stanno facendo addirittura il 90%, quindi mi raccomando, usufruite dello sconto, in particolare trovate il link in descrizione. Ho giocato a Quantum Break, Quantum Break in teoria, Break, Quantum Break. Il gioco è vecchiotto, per carità, però io credo di aver giocato a uno, per il momento, a uno dei migliori titoli di Xbox disponibili sul Game Pass. Ce ne sono altri, per esempio c'è Hellblade 2, che ancora ci devo giocare, ma tantissimi giochi, tantissimi, tantissimi, tantissimi. E devo dire che questo Quantum Break mi ha stupito, come a livello di trama, perché è un casino della madonna, però alla fin fine, se tu segui filo per filo la trama del gioco, alla fine lo capisci. Poi per il gameplay è un po' complesso, però alla fin fine ci sta perché è molto, ma molto divertente. E soprattutto mi è piaciuto, ma mi è piaciuto un casino, e per chi ha l'Xbox io ve lo straconsiglio, sto gioco, almeno per provarlo una volta, perché è un misto tra Ninfamous, poi è un misto tra tante cose. La prima impressione è una sottospecie di Ninfamous per Xbox, ma con i poteri del tempo. Quindi molto carino, mi è piaciuto un sacco. Devo dire che quando l'ho finito ho detto, ok, bellissimo, ma Quantum Break 2? In realtà Quantum Break 2 hanno detto che ci stanno facendo dei lavori sopra, ma io vi ricordo che è uscito una sottospecie di DLC per Hala Wake 2, perché visto che Hala Wake, Control e Quantum Break in teoria dovrebbero essere nello stesso universo, a quanto pare su Hala Wake 2 è uscito il DLC appunto di come protagonista il personaggio videoludico di Quantum Break, e diciamo che può collegare un po' il continuo del gioco, quindi andando un po' ancora avanti con la trama. E però vi devo dire una cosa anche per questo, Quantum Break 2 a quanto pare potrebbe essere in lavorazione. Attenzione, quindi ci possono fare un buon lavoretto, fatto bene, mi raccomando, e spero che fanno un secondo capitolo, perché non possono finire con un primo capitolo, visto dato che dal finale del gioco, a quanto pare, si potrebbe continuare per un secondo capitolo. Comunque, per chi non avesse mai giocato a questo titolo, vi spiego leggermente la trama. A quanto pare il protagonista viene invitato in un laboratorio scientifico tramite un collega di un nostro fratello. E questo collega appunto ci fa capire come funziona il tempo, eccetera, e ce lo fa vedere. Ma qualcosa va storto e va tutto a puttane. Ci ritroviamo con il nostro protagonista, con i poteri del tempo, che man mano si evolve e dobbiamo letteralmente salvare il tempo dalla sua rottura. Quindi diciamo che questo è in poche parole del videogioco. È molto action, mi fa molto, come dire, interessare riguardo al gameplay, anche la storia. Mi ha interessato parecchio e, ragazzi, io ve lo consiglio, tanto, se volete, come ve lo consiglio? Semplicemente, se voi andate il link in descrizione con Instant Gaming, potete usufruire del Game Pass. Farvi Game Pass a poco prezzo, però con Ultimate, perché se volete giocarlo con il Pass dovete farlo a livello Ultimate. Scaricatelo e provatelo, e poi fatemi sapere. Ragazzi, grazie mille, noi ci vediamo in un prossimo video. Giocate a Quantum Break, ragazzi, mi raccomando.